Il primo impulso dice quant'è che devono suonare, giusto? Ma il secondo è importante, perché insieme con il secondo c'è la cognizione tecnica. E tu fai il di, Ah, Iara, tatatatata, certo, anche lì sto per intendere, certo. Ebbene E certo Ma è chiaro? C'è il rosso, si Il primo, iniziamo al secondo C'era Questo gesto verso il basso, non lo affrettare Si Ripresa? Si si Quattro prima Questa è la maestra Si Fa, mi posso farlo? Ok 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 Ti ha Chiudere Senza suonare Che cosa è? Qua Sì Sono tutti Ma non c'è carattere Così c'è carattere No Capisci? No Chiudere così Più sonorità luminosa vuoi ottenere Più devi stare verso dietro No 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 Ti fermi e te la fai lasci su la roba. Allora, cos'è? La... Ah, sì, scusami. Allora, senza la progetto, faccio la contrazione. 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 Non è sempre un'intenzione indispensabile. Faccio la contrazione. Faccio la contrazione. Piccola fermata. Sì, non fermare G. Faccio la contrazione. Faccio il caso. Non è levante. «L'uno, l'uno, tu non lo fai» «L'uno, la nota levata, certo» «R'unor, l'au, l'unor adesso» «T nали dalle luce» «Uli, tatti, allora» «Di», «unor» «I、 di», «di» «Di», 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 «di». Direttamente «itte», Il carattere non è grande, nel quattro senzioni. Ricordo un po' che io ho quasi 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 una disposizione.